Buonasera, ci troviamo qui nel fantastico scenario del Chiostro di San Pietro. Questa è una serata organizzata dall'Associazione Quartiere di San Pietro e Gubbio Facentro con la partecipazione anche dei Cricos Eventi, Billo Poto, Dance Art e che ha visto anche l'esibizione degli sbandieratori di Gubbio. Ci troviamo qui con la Presidente dell'Associazione Quartiere di San Pietro, Giovanna Uccellani con la rappresentanza di Gubbio Facentro, Lucia Rossi e con il Sindaco Filippo Maria Stirati. Buonasera a tutti. Questa è una serata, una cena spettacolo, una serata che vede il quartiere di San Pietro in prima fila, fortemente evoluta, sancisce un po' la fine dell'estate ma sicuramente non il ruolo di protagonista del quartiere. No, assolutamente no. Infatti avevamo pensato a questa serata un po' diversa rispetto agli eventi che noi di solito organizziamo con l'Associazione del Quartiere di San Pietro ed è una serata che è un glamour, una serata di gala nella quale però abbiamo pensato anche di unire la possibilità di far venire i ragazzi dopo cena. Quindi è una serata con una bellissima cena organizzata da Paolo Lancia e abbiamo pensato quindi poi di dare la possibilità ai ragazzi di intervenire dopo cena. Questa serata vede il quartiere di San Pietro protagonista, un quartiere che vuole recuperare la sua centralità anche all'interno dello scenario del centro storico, giusto? Sì, devo dire che la riconquista di questi luoghi, della piazza, del chiostro e mi auguro anche non molto lontano nel tempo anche della palestra sicuramente oltre che del parcheggio coperto sicuramente consente a questo quartiere di sprigionare tutte le sue energie che sono notevoli e devo dire che apprezzo molto l'impegno della Presidente, di tutti coloro che animano questa realtà che si sta veramente rimuovendo con una direi fase di vera e propria rinascita con tante iniziative come questa e con impegni culturali, sociali, ricreativi e anche a favore del folklore, grande impegno per il torneo dei quartieri e per il mercato medievale. Ecco, sono tutte iniziative che puntano a valorizzare il centro storico, a dargli grande vitalità e questo naturalmente è importante da tutti i punti di vista, non escluso anche quello del tessuto economico. Grazie, è appunto il tessuto economico con le aziende che operano nel territorio, nel centro storico, i commercianti, giusto Lucia? Sì, esattamente. Noi di Gubbio Facentro, quando siamo stati invitati dal quartiere di San Pietro, da Giovanna a partecipare a questo evento, abbiamo detto sì e lo abbiamo fatto con felicità. Questo perché essendo operatori attivi del centro storico crediamo anche nella sua multidimensionalità e che è tale anche per eventi di divertimento, di festa come questo di questa sera e soprattutto avvengono dei scenari bellissimi, delle location che sono un valore aggiunto per noi che viviamo in questa città, che lavoriamo e che ci mettiamo il massimo impegno e dunque ecco, siamo molto contenti di essere presenti in questa serata che racchiude un po' lo spirito della nostra azione quotidiana che è nelle nostre botteghe, nei nostri centri, nelle nostre attività ma anche nei nostri luoghi. Grazie, a me non resta che augurarvi buon proseguimento di serata e grazie a voi, grazie a tutti.